Mosca aggrava la situazione in Siria con i suoi raid, lo afferma la Casa Bianca commentando le voci di un presunto asse fra russi, Iran e Hezbollah, per sostenere Bashar al-Assad contro i ribelli. Teheran avrebbe già inviato sul terreno centinaia di soldati. Gli Stati Uniti non possono per ora confermare. Se è vero e varie fonti riportano tali notizie, sarebbe una dimostrazione piuttosto appropriata e potente di come l'intervento militare russo in Siria, incentrato su bombardamenti indiscriminati su obiettivi dell'opposizione siriana, abbia aggravato quel conflitto. Secondo fonti libanesi, i bombardamenti russi saranno affiancati dalle azioni sul terreno dei soldati iraniani, per ridare ad Assad le zone nord-occidentali conquistate dagli insorti. Finora il sostegno dell'Iran si sarebbe limitato a fornire consiglieri militari. Alcuni giorni fa, russi, Iran, Siria e Iraq hanno concordato uno scambio di informazioni di intelligence in funzione anti-ISIL.